In Terra Umbra il Pescara manca la terza vittoria su tre in trasferta ed è costretto ad accontentarsi del pareggio al cospetto di un ostico Gubbio. Finisce 2-2 al Barbetti. In Terra Umbra l'undici Adriatico ha sofferto e rischiato anche di crollare, riuscendo però due volte a riprendere l'avversario. Con la Reggiana domenica prossima all'Adriatico Giovanni Cornacchia ci vorrà però un'altra partita. Auteri lancia a centrocampo Rasi per Zita e soprattutto in attacco a sorpresa Marilungo per Dursi. Torna Clemenza con De Marchi centrale d'attacco. In difesa c'è Frascatore al posto d'ingrosso. La squadra di Torrente in campo con il 4-3-3. Serata fresca in Terra Umbra con i rosso-blu che partono forte. Dopo due tiri dalla bandierina trovano al settimo minuto con un autogol di Drudi su tocco di arena. Il vantaggio. Ingenuità grossolana del Delfino che incassa ancora un gol in campionato e che inizia male, così come è accaduto anche nel match con la Viterbese. La squadra di Auteri accusa il colpio al dodicesimo e arena ad alzare di poco sopra la traversa. La velocità e l'intensità dei padroni di casa mettono in evidente difficoltà agli abruzzesi mai pericolosi dalle parti di Ghidotti. Al ventisettesimo Marilungo in area allarga troppo il compasso e mette la sfera a lato. Auteri sprona i suoi ragazzi e al trentasettesimo Clemenza al termine di un'azione confusa riesce in area a due passi a toccare il pallone e a mettere la sfera alle spalle di Ghidotti. Ristabilita la parità al Barbetti con i biancazzurri che chiudono in crescendo il primo tempo che finisce 1-1. Nella ripresa al decimo Arena approfitta di una punizione non fischiata al Pescara e si presenta tutto solo davanti a Di Gennaro mettendo però a lato al quindicesimo Migliorini sugli sviluppi di un corner di testa. Sfiora il gol con Di Gennaro impietrito sulla linea di porta. Rischiano i biancazzurri in un avvio di secondo tempo troppo molle e così al diciassettesimo Memushai va a toccare Arena in area di rigore con Moriconi che indica il penalty. Dagli 11 metri Cittadino non sbaglia per il 2-1 per il Gubbio. Nuovamente tutto da rifare per i biancazzurri ancora sotto e quasi impotenti al cospetto di un Arena giocatore che lo scorso anno militava in Serie D. Il Delfino soffre con Uteri che al venticinquesimo spedisce sul terreno di gioco Di Ambo e Dursi per Marilung e Rasi. Il Pescara passa così al 4-3 in un finale di partita che al ventinovesimo vede la parata di Ghidotti su conclusione a giro di Di Ambo. Spingono gli ospiti con Clemenza che poi al trentaduesimo si inventa un erogol regalando la sua squadra. La rete del nuovo pareggio. Al trentatresimo arriva il turno anche per Ferrari in campo al posto di De Marchi con i biancazzurri che spingono e con Zappella nel finale al posto di Clemenza. Come terzo attaccante non accade però più nulla con il 2-2 che fa scivolare il Pescara al terzo posto in classifica.